Lei inizia la sua esperienza prima di manager e poi di imprenditore e vive almeno tre momenti di grave crisi aziendale. Il primo nel 1984, quando a soli 29 anni si ritrova a essere amministratore delegato di una filiale di Jacobin, che è in una grave difficoltà economica. Poi nel 2005, quando rilevò Jacob da Comao e Fiat in un altro momento che era quasi vicino al fallimento e infine nel 2008, quando anche Jacob deve attraversare la crisi finanziaria mondiale. Quindi tre momenti veramente molto impegnativi. Le chiedo, secondo lei c'è un filo rosso, c'è qualcosa che accomuna questi tre momenti che lei ha affrontato obiettivamente e molto brillantemente? Perché in tutti e tre i casi, in pochi anni, lei ha risollevato queste aziende e le ha fatte diventare leader nel loro settore. Qual è stato, non dico il segreto, ma qual è stato anche l'insegnamento che le hanno lasciato queste crisi? Ma prima di dire questo, aggiungo a quei tre episodi altri quattro, se vuole, perché purtroppo per me è stato sempre così, o per fortuna. Io sono sempre stato legato, fedele al gruppo Jacobin, fino ad arrivare nel 1994 addirittura a comprarla, ma fare management by out. Ma proprio per partecipazione alla Jacobin, a destra e a sinistra delle varie aziende, e mi sono trovato in queste aziende, proprio all'inizio per incidenti e poi dopo per un po' la preparazione di affrontare certe situazioni difficili. Primo, nell'84, quando avevo 29 anni, sono diventato amministratore delegato di questa azienda nigeriana, dove noi avevamo partecipazione minorazionisti, però avevamo la responsabilità operativa, perché non c'era nessun altro che veniva giù. Non era per merito, ma semplicemente perché non c'era nessun altro, hanno detto va bene, lo fai tu. Grazie a cielo la cosa ha funzionato, è andato molto bene. Poi dopo, quando sono tornato qua in Italia, fino a 87, inizio 88, mi sono trovato un'azienda che stava fallendo e che ho dovuto prendere in mano, che non c'entrava niente come business con l'altra azienda, era completamente un altro business. Anche lì, grazie a cielo, poi ha funzionato e è diventato leader mondiale nel suo settore. Poi mora mio padre nel 91 e ho dovuto andare in Iran a riprendere il suo gruppo, dopo 14 anni che era bloccato, di metterlo un po' in moto, che era nel campo edilizia. E anche quello è andato, grazie a cielo, grazie anche ai miei fratelli, molto bene. E poi purtroppo è morto mio suocero. E lì, pur essendo estremamente legati in famiglia, però ovviamente avevamo idee diverse di come continuare e ho dovuto fare management buyout con l'aiuto di mia moglie e sostegno anche della sua famiglia, di darmi questa possibilità di comprare aziende. Anche lì, la Jayco, per esempio, che era il componente più importante del gruppo, era brutta acqua e abbiamo dovuto mettere a posto parecchie cose. E poi viene fuori il discorso della vendita della Fast, l'azienda che io, praticamente al semitrato della Jayco che stava fallendo, l'avevo portato con l'aiuto di tutti i ragazzi a essere il numero uno del mondo. E con l'azienda lì, a un certo punto però, anche lì, siccome la famiglia voleva fare qualcos'altro, abbiamo avuto un'offerta che non potevamo rifiutare e è stato venduto. Anche quello per me era una cosa non indifferente a sopportare, però anche lì, grazie a cielo, ha funzionato molto bene. E poi sono uscito per il 2005 a prendere la Jayco, che anche lì era nelle condizioni veramente, veramente disastrosi, dopo che Comao e Fiat avevano deciso di venderla. 2008, metà 2008, arriva crisi mondiale, crolla tutto e abbiamo dovuto riprendere, appena stavamo respirando, riprendere delle attività diverse, insomma per portarlo avanti, per sopravvivere. Tutte queste situazioni di crisi hanno la stessa cosa che è successo a me come persona dopo la rivoluzione iraniana, perché da oggi a domani la mia vita ha cambiata, proprio da oggi a domani. Mi sono trovato, venivo da una famiglia benestante e giorno dopo, proprio giorno dopo, per questione di sanzioni, per tutte le questioni che erano, non avevo più niente. Ho dovuto tirare sulle maniche e affrontare la situazione in una certa maniera. Questa violenza, questo cambiamento di vita in maniera violenta, è grazie anche l'educazione che avevo da mio padre e da mia madre su questo essere preparati per un giorno che può arrivare, cambiare tutto da oggi a domani, è lo stesso che ho vissuto con le aziende, in la stessa maniera. In tutte queste situazioni qua io non ho visto nessuno di questi qua come disgrazia, l'ho visto, ho sofferto molto umanamente, però non ho visto come disgrazia, l'ho visto tutte con un altro esame che dovevo superare. E in tutte queste questioni, tutte queste situazioni, l'ho fatto con le persone che trovavo. Non andavo nelle aziende con pulmino o con dei manager miei, andavo in quell'azienda con le stesse persone e tiravamo fuori l'azienda. È così come la vita, non sono venuto qua e dicono, ma siccome questa rivoluzione è stato fatto diretto da non so chi, che io sono obbligato adesso a vivere in un altro paese, voi con le vostre istanzioni non mi fate avere le mie accessibilità a mie cose, allora divento negativo, divento un elemento negativo della società. L'ho preso sempre, in tutte queste occasioni ho preso come un stimolo di miglioramento, arricchimento, di fare qualcosa di produttivo, positivo per la società nel mio piccolo.